we came from napoli è un progetto che il comune di napoli il sindaco ha fortemente voluto con città della musica e con billboard che è l'istituzione della musica nazionale e internazionale ed è volto a valorizzare le giovani leve della musica napoletana partenopea e le portiamo con un contest a milano davanti alla music industry e davanti al pubblico milanese e poi faremo anche un evento su napoli una commissione di esperti selezionata da billboard sceglierà i due vincitori di un contest che parte e termina il 21 aprile un contest online e i due vincitori avranno come premio principale quello di esibirsi davanti agli enar della music industry ed uno dei requisiti che non abbiano dei contratti discografici proprio perché l'auspicio è che possano sempre di più entrare in sinergia con l'industria nazionale ed internazionale perché no possono partecipare tutti gli under 35 che sono nati a napoli e provincia per iscriversi basta andare sul sito del comune sito di ufficio musica città della musica billboard e online si trova facilmente il link per iscriversi